Buongiorno a tutti. Montelabate? No. Ok, quindi perché ci ritroviamo qui dopo quattro giorni? Oggi, questa mattina, c'è stato un appuntamento molto importante che da giorni leggevamo sui giornali, quindi conferenza della Vasta. Una conferenza che si è conclusa con un nulla di fatto. Nulla di fatto perché? Perché evidentemente l'incertezza su questo tema è ancora molto, molto forte. Dopo circa tre ore di interventi da parte dei sindaci, cosa è emerso? C'è chi tifava per Muraglia, chi tifava per Chiaruccia, ma devo dire che la stragrande maggioranza invece ancora cercava di spiegare che probabilmente prima di parlare di ospedale unico o ospedale nuovo, piuttosto che il sito, sarebbe opportuno rivedere questo piano sanitario. Perché è questo che è emerso fortemente, proprio questa è la motivazione. E credo che, voglio dire, anche lo stesso Presidente Gambini, che dice di aver fatto tutto e noi ci crediamo per mettere d'accordo Fano, Pesaro e quant'altro, credo che purtroppo abbia fatto i conti senza l'oste, come si suol dire. Perché se 30 sindaci poi, al momento in cui si doveva discutere di quel benedetto app, sono usciti 27, 28, non mi ricordo bene quanti erano, ma molti, vuol dire che effettivamente il problema esiste. È chiaro che per noi, noi non è che siamo usciti, diciamo che già da un po' di tempo sosteniamo che questo piano andava rivisto, anche nella stessa conferenza stampa di quattro giorni fa, ma oggi credo che sia emerso con forza e quindi è molto importante che non passi il messaggio che noi siamo usciti perché non volevamo decidere. Ma abbiamo detto in anticipo che probabilmente è prematuro, a parte decidere con un sistema molto complicato e credo difficilmente comprensibile per un verso, però da parte nostra credo che oggi abbiamo fatto quello che sostenevamo da tempo ed è stato quello di non prenderci la responsabilità perché non è questo il punto, ma non poter andare a decidere una cosa che da sta grande maggioranza probabilmente dei sindaci e quindi delle comunità della provincia forse non stanno condividendo. Quindi abbiamo preso questa linea coerente, ripeto, su quello che abbiamo detto che stiamo dicendo negli ultimi mesi e di fatto da 9 che eravamo l'altra volta, stamattina siamo quasi arrivati a 30 che alla fine, magari con qualche distingo, ma di fatto il problema di fondo è proprio rivedere il piano sanitario. Quindi alla luce di questo noi ci sentiamo con la coscienza pulita, nel senso che abbiamo detto e lo diciamo da tempo quello che pensiamo e lo ribadiamo, oggi siamo qui perché ognuno può dire la sua e riconfermare quello che più o meno è stato detto. Passo la parola a Baldelli, poi a tutti gli altri colleghi. Grazie. Grazie, ringrazio ancora una volta il sindaco di Piagge per la sua ospitalità, per quello che ormai è diventato il patto di sindaci di Piagge. Per quale motivo? Perché questo gruppo di sindaci a cui piace dialogare, a cui piace ragionare, a cui piace non soltanto dire no se una proposta non piace, ma progettare una alternativa, si sta ingrossando. Oggi abbiamo vissuto, come diceva il collega Cionna, una riunione della conferenza dei sindaci in cui non vi è stato un confronto, una condivisione e poi una decisione, si voleva imporre una decisione. Che cosa ben diversa e soprattutto che cosa ben diversa rispetto al metodo dialogante dei sindaci che si siedono intorno a questo tavolo e cosa ben diversa anche rispetto ad alcuni nostri colleghi sindaci che non sono qui presenti e che si uniscono al nostro gruppo appunto per dialogare, per suggerire, per indicare la strada maestra, per garantire un'assistenza ospedaliera omogenea su tutto il territorio provinciale. E allora la notizia di questo pomeriggio per la quale abbiamo convocato una conferenza stampa urgente a cui ci sono aggiunti due colleghi sindaci, tra l'altro di realtà comunali particolarmente importante, vedo il sindaco di Cartoceto e il sindaco di Mondolfo, è che presentiamo la piattaforma di un nuovo modello di piano sanitario regionale. Di fronte a una politica e degli amministratori che non sanno decidere e che litigano perché non ammettono una discussione in conferenza di area vasta, ci assumiamo l'onere di presentare la piattaforma progettuale di quello che noi intendiamo il nuovo piano sanitario regionale, in quanto il piano sanitario regionale attualmente è in essere e che si vuole applicare fino alle estreme conseguenze con la costruzione di un nuovo ospedale unico, è stato approvato nel lontano dicembre, nei pressi di Natale del 2011 ed era valido per il 2012-2014. Dal 2014 ad oggi non è stato redatto alcun nuovo piano sanitario regionale. Allora questi sindaci si assumono l'onere di presentare un progetto e una proposta che per correttezza invieremo anche alla conferenza dei sindaci ma che presenteremo a tutti i gruppi politici della regione Marche. Oggi non c'è stato possibile perché alla nostra richiesta di discutere, prima di individuare un modello di sanità per la nostra provincia, che è quello che ci propone la regione Marche, modello baricentrico con un'unica struttura ospedaliera valida per tutta l'area vasta, noi abbiamo detto prima di scegliere i criteri per l'individuazione e la localizzazione dell'ospedale unico è necessario scegliere in questa conferenza di sindaci che modello vogliamo, se un unico ospedale che chiude gli altri ospedali come descritto a pagina 225 del piano sanitario regionale o se vogliamo invece una rete di ospedali diffusa su tutto il territorio che garantisca l'assistenza ospedaliera per acuti su tutto il territorio provinciale per poi confluire in un ospedale o anche su più ospedali, quelli di Fano e di Pesaro che garantiscano poi maggiori specialità rispetto ovviamente agli ospedali della rete che fanno filtro verso questa nuova struttura ospedaliera se si vuole costruire ma come nuova struttura ospedaliera per Pesaro o per Fano o per Pesaro e Fano che non chiuda però le altre strutture ospedaliere che è un concetto completamente diverso rispetto a quello descritto dal piano sanitario regionale detto questo, questo è il documento che abbiamo redatto insieme oggi ai colleghi abbiamo già sottoscritto, pronto quindi per l'invio alla conferenza di sindaci ma soprattutto pronto per la presentazione ai componenti della commissione sanità della regione Marche ecco la piattaforma del nuovo piano sanitario regionale così come inteso da questo gruppo che tra l'altro ci è sembrato oggi il più coeso e il più ampio presente in conferenza dei sindaci con una linea di condotta comune quella del confronto, del dialogo e un modello alternativo a quello dell'ospedale unico per la provincia modello di assistenza ospedaliera per acuti su più poli ospedalieri premesso che in dato odierna si è svolta la conferenza dei sindaci di Aralasta preso atto che la seduta è stata convocata con l'indicazione del seguente ordine del giorno esame e discussione sulle proposte in merito alla localizzazione della nuova sede ospedaliera Marche Nord e alla riorganizzazione dei servizi sanitari provinciali considerato che il piano sanitario regionale 2012-2014 approvato con la deliberazione numero 38 del 16 dicembre 2011 dal Consiglio regionale delle Marche prevede a pagina 225 il consolidamento a nord della regione dell'azienda ospedaliera riuniti Marche Nord ad integrazione delle realtà di Pesaro e Fano con la realizzazione di una struttura unica per la copertura del bisogno di cura e di assistenza a livello minimo di aria vasta quindi è chiaro che il piano sanitario regionale attualmente in vigore parla di un'unica struttura e non parla né di eccellenze né di specialità rilevato che la conferenza dei sindaci di aria vasta numero 1 dalla sua Costituzione non ha mai espresso il proprio parere sul modello organizzativo di assistenza sanitaria e ospedaliera relativa al territorio di aria vasta numero 1 coincidente con l'intero territorio provinciale di Pesaro Urbino considerato che non è stata predisposta un'analisi costi e benefici necessari a scegliere il modello ospedaliero che metta a confronto il recupero della rete ospedaliera esistente con la realizzazione di una struttura unica considerato altresì che non è stata predisposta un'analisi costi e benefici relativa alla scelta tra la ristrutturazione degli ospedali esistenti di Pesaro e Fano e la costruzione di un ospedale unico per l'azienda Marche Nord considerato che il gruppo di lavoro tecnico per la localizzazione del nuovo ospedale unico dell'azienda ospedaliera Marche Nord evidenzia a pagina 6 della relazione riguardante l'individuazione del sito dove realizzare il nuovo ospedale unico dell'azienda ospedaliera Marche Nord che appare necessario che la valutazione definitiva sulla scelta dell'area sia accompagnata da una dettagliata analisi a criteri multipli del tipo costo-benefici valutato che non è mai stata predisposta e o presentata alla conferenza di sindaci di area vasta numero 1 un'analisi costi-benefici relativa a quanto previsto nei precedenti punti E e F nonché relativa alla localizzazione e realizzazione della nuova struttura ospedaliera unica come sottolineato dal gruppo di lavoro tecnico per la localizzazione del nuovo ospedale unico considerato quindi per quanto rilevato al punto D e ai successivi punti E, F, G, H non conseguenziale anquanto in premessa una decisione della conferenza di area vasta sulla localizzazione della struttura unica ospedaliera di area vasta Marche Nord per la mancanza delle condizioni necessarie preso atto di quanto sopra che forma parte integrante della presente proposta di programmazione di organizzazione sanitaria ospedaliera i sottoscritti sindaci propongono alla deliberazione dei collegi sindaci della conferenza di area vasta numero 1 alla Commissione Sanità della Regione Marche al Consiglio regionale delle Marche alla Giunta regionale delle Marche la seguente piattaforma di discussione e di programmazione in merito alla organizzazione sanitaria e ospedaliera sul territorio provinciale contrarietà alla localizzazione e alla realizzazione dell'ospedale unico di area vasta definito a pagina 225 del piano sanitario regionale 2012-2014 come una struttura unica per la copertura del bisogno di cura e di assistenza a livello minimo di area vasta la necessità di sviluppare un sistema sanitario che tenuto conto della popolazione della provincia di Pesaro Urbino pari ad oltre 360.000 abitanti della sua orografia territoriale e del sistema aviario esistente che determina lunghi tempi di percorrenza preveda una rete di assistenza ospedaliera per acuti omogenea su tutto il territorio provinciale da attuare con la salvaguardia e il potenziamento degli ospedali ancora esistenti o di quelli riconvertiti o in via di depotenziamento riconversione Pesaro, Urbino, Pergola, Fano Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro la necessità di redigere un nuovo piano sanitario regionale attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro e di concertazioni tra sindaci e regione Marche seguono le firme del sindaco di Piagge, Fossombrone, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Monte Copiolo, Monte Felcino, Pergola, Cartoceto, Monte Labbate, Mondolfo Questa è la piattaforma che questo ampio gruppo di sindaci rappresentanti un vasto territorio provinciale in termini di chilometri quadrati e in termini di popolazione presenta alla regione Marche vista l'incapacità della conferenza di sindaci di adottare una decisione ma soprattutto l'incapacità della conferenza di sindaci di ricevere la richiesta di noi sindaci di discutere il modello di piano sanitario ospedaliero per la nostra provincia ricordiamo e concludo che non siamo contrari alla costruzione di una struttura ospedaliera per Pesaro o una struttura ospedaliera per Fano siamo contrari al privato in sostituzione del pubblico non siamo contrari al privato in concorrenza con il pubblico ma non in sostituzione del pubblico vogliamo che venga garantita l'assistenza sanitaria ospedaliera per l'urgenza e le emergenze in ugual modo in tutto il territorio provinciale e quanto diciamo assistenza ospedaliera per emergenza e urgenza in tutto il territorio provinciale non parliamo di ospedali riconvertiti come case della salute o con posti letto non per acuti ma ospedali che dispongano di un pronto soccorso in grado di garantire la vita di un incidentato di un infartuato di stabilizzare la vita di un incidentato di un infartuato e ovviamente di altre patologie che possono colpire i nostri concittadini concludo ringraziando anche i sindaci con i quali abbiamo dialogato anche oggi in una veramente con grande capacità costruttiva anche all'interno di conferenza dei sindaci mi dispiaccio e tutti siamo dispiaciuti che in conferenza dei sindaci non c'è stato possibile discutere su un modello organizzativo di piano sanitario ma c'è stato imposto di decidere la localizzazione su un nuovo ospedale unico tra l'altro abbiamo notato che non si è potuto neanche decidere sulla localizzazione del nuovo ospedale unico perché non c'era un sindaco sostanzialmente d'accordo sul criterio di localizzazione di un ospedale unico perché se non si parte dall'origine ossia se siamo d'accordo o meno su un modello sanitario non si potrà mai trovare la localizzazione di un nuovo ospedale vi ringrazio e vi dico che continueremo con la stessa determinazione a portare avanti questa battaglia perché la provincia di Pesaro e Urbino non può essere da meno della provincia di Ancona nella provincia di Ancona abbiamo ben 5 ospedali quindi un sistema su più poliospedalieri policentrico nella provincia di Pesaro vengono tutti riconvertiti a favore di un'unica struttura ospedaliera come definita da pagina 225 del piano sanitario regionale grazie ringrazio anche i colleghi per la pazienza bene Enrico grazie Maurizio ovviamente ti ringraziamo per l'ospitalità come sindaco di Cartoceto che si è aggiunto dopo la conferenza stampa che si è tenuta la scorsa settimana sempre in questa sala mi preme precisare due punti e due aspetti fondamentali rispetto alla conferenza di area vasta che è andata in scena questa mattina in Urbino la prima è il motivo per cui questi sindaci ma non solo perché prima Maurizio Cionna ha detto che quasi circa 30 sindaci sostanzialmente sono usciti hanno deciso di uscire dalla sala della conferenza di area vasta ora siccome questi sindaci sono anche stati tacciati di mancata pertinenza rispetto agli interventi che hanno questa mattina che li hanno contraddistinti perché fondamentalmente eravamo chiamati ad esprimerci su quella che avrebbe dovuto essere la localizzazione del nuovo ospedale unico beh il fatto che questi sindaci invece abbiano posto l'accento sostanzialmente sulla necessità di rivedere il piano socio-sanitario e quindi in un certo qual modo discutere prima del contenuto e poi della scatola cioè del contenitore a detta di qualcuno e come dire possono essere possono rappresentare sostanzialmente degli interventi con scarsa pertinenza rispetto all'ordine del giorno io credo fortemente fermamente che questi invece siano interventi di buon senso interventi che probabilmente hanno alla base quella ragionevolezza e quella responsabilità che i sindaci quali autorità sanitaria massima del proprio territorio debbono assolutamente tassativamente avere dico questo perché in tutti questi mesi e lasciatemi fare anche una piccola polemica credo che sia stato fatto anche ad arte e ad hoc si è discusso molto ovviamente della localizzazione come se cittadini e amministratori dovessero giocare con le costruzioni della Lego per posizionare un tassello in diversi siti della nostra provincia mentre tutto il dibattito poi si svolgeva altrove ora l'ho detto anche stamattina in conferenza dei sindaci siamo in un momento in cui tra l'altro si discute non soltanto a parole ma con atti deliberativi alla mano tra l'altro atti della giunta della regione Marche in cui si discute di integrazione e di interazione tra l'aspetto sociale e l'aspetto sanitario non ultima quella che ho citato questa mattina in conferenza dei sindaci e cioè la nascita di un'ulteriore struttura dopo gli ambiti territoriali sociali ottimali anche delle Uoses che sono per far capire ai cittadini che ci ascoltano le unità operative socio-sanitarie quindi si va ancora di più in quella direzione tra l'integrazione dell'aspetto sociale e quello sanitario ora in tutto questo dibattito e in tutto questo concretizzarsi ovviamente di atti deliberativi tra l'aspetto sociale e l'aspetto sanitario è non pertinente da parte dei sindaci discutere della revisione del piano socio-sanitario prima di discutere del contenitore forse se c'è qualcuno che pecca di impertinenza è qualche di un altro rispetto ai sindaci che ci terrei a dirlo tra l'altro in maniera politicamente trasversale perché questo è un connotato molto molto importante credo rispetto a tutti gli interventi che ci sono stati questa mattina in conferenza dei sindaci hanno appunto chiesto di rivedere il piano socio-sanitario hanno chiesto di rivedere quale dovrà essere eventualmente il contenuto di questa nuova scatola quali professionalità quali tecnologie quali servizi erogati al cittadino prima di poter discutere di localizzazione ebbene su queste rimostranze che ci sono state da parte di tanti sindaci l'unica risposta che questa mattina è stata data è che eravamo chiamati a decidere esattamente in quel momento senza ulteriori procrastinazioni a riguardo e quindi su questo ovviamente siamo usciti dalla sala ripeto non soltanto queste otto persone nove persone che siamo qua ma in generale 30 sindaci non per mancanza di responsabilità ma esattamente per il motivo per cui vi ho detto poco fa questo è il primo concetto il secondo molto molto importante anzi altrettanto importante è quanto stava esprimendo poco fa il sindaco di Pergola relativamente all'opportunità di avere un ulteriore ospedale io come sindaco di Cartoceto non ho mai fatto mistero sul fatto di essere favorevole ad un altro ospedale nella misura in cui questo ospedale sia un ospedale di eccellenze e cioè che possa ospitare tutta una serie di professionalità di servizi e di tecnologie in grado di ridurre drasticamente fino ad azzerare la cosiddetta mobilità passiva che nella regione Marche vale decine e decine di milioni di euro per far capire ai cittadini la mobilità passiva e tutto ciò che noi spendiamo perché i cittadini dal momento che non si fidano di farsi curare presso le strutture della regione Marche o talvolta ancora peggio purtroppo hanno delle lungaggini che non possono tollerare rispetto a quelli che sono i problemi di salute che si presentano decidono di andarsi a curare fuori regione questi sono i costi cosiddetti di mobilità passiva che siamo costretti a sostenere ebbene se questo nuovo ospedale di eccellenze dovrà servire ad abbattere drasticamente questa mobilità passiva io non posso che non essere favorevole alla realizzazione di un altro ospedale di eccellenza che però non significa e qui non voglio fare come dire particolarismi sui termini ma le parole in italiano hanno un significato ben preciso questo non significa essere però favorevoli ad un ospedale unico che porti alla chiusura degli ospedali esistenti di Fossombrone Cagli Pergola Sassocorvaro Fano Pesaro eccetera fino alla realizzazione di un unico ospedale che non solo dovrà o dovrebbe erogare quelli che sono i servizi e le prestazioni sanitarie anzi ricollegandomi al ragionamento che facevo prima socio sanitarie d'eccellenza ma anche tutti quelli che sono i servizi quotidiani che il cittadino si aspetta mi riferisco alle attività poliambulatoriali alle attività diagnostiche a tutti quei malati che hanno bisogno delle cure di dialisi quotidianamente ecco penso a tutte queste persone che ovviamente non possono permettersi da Monte Coppiolo a Frontino alla Carpegna fino ad arrivare a Mondolfo e poi tutta la vallata del Metauro tutta la vallata del Foglia e del Cesano ovviamente dall'altra parte non possono permettersi di fare decine e decine di chilometri perché prima si citava il caso degli infartuati è bene che i cittadini sappiano che nel caso in cui noi avessimo un unico ospedale nella provincia l'infartuato fa a tempo a morire forse un paio di volte prima di arrivare in ospedale cosa ben diversa e lo ribadisco perché ci tengo particolarmente a questo concetto è che invece qualora ci fosse di fronte alla drastica riduzione di spese legate alla mobilità passiva l'opportunità di realizzare un ospedale d'eccellenza un altro ospedale d'eccellenza nel nostro territorio provinciale questa possibilità mi troverebbe favorevole rispetto alla opportunità importante di cui potrebbero beneficiare ovviamente non soltanto i territori ma direttamente tutti i cittadini tutte le famiglie tutte le persone anziane con disabilità di questo territorio provinciale questi erano i due concetti che ci tenevo a rimarcare in maniera particolare perché non vorrei lo sottolineo con forza che dopo la mattinata di oggi il messaggio che qualcuno eventualmente vuol provare a trasmettere non soltanto alla stampa ma in generale ai cittadini è che ci sono 30 sindaci irresponsabili che per mancanza di lucidità politico-amministrativa abbiano deciso di non decidere questi sindaci hanno deciso di avere o perlomeno di cercare di avere un sistema socio-sanitario migliore di quello attuale nei tempi e nella qualità dell'erogazione dei servizi che ad oggi invece siamo costretti ad assistere grazie grazie derico faccio un intervento breve visto che gli altri sindaci hanno già detto praticamente tutto ringrazio Piagge per l'ospitalità e tutti gli altri sindaci presenti credo che un nostro intervento sia doveroso visto che siamo il quinto comune di questa provincia ci siamo espressi già in consiglio comunale dopo un'interpellanza proposta dai Cinque Stelle però è giusto ribadirlo anche qui oggi voglio sottolineare che questo è un giorno importante perché come diceva prima il sindaco di Pergola oltre ai sindaci che c'erano prima se ne sono aggiunti di altri c'è Mondolfo in più 15.000 abitanti c'è Cartoceto un comune importante della nostra provincia quindi iniziamo ad essere un bel gruppo un gruppo coeso un gruppo formato da comuni che hanno le idee chiare il documento letto prima lo dimostra a mio avviso il dibattito sulla realizzazione dell'ospedale unico diciamo si sta trascinando da troppo tempo e più si va avanti e più divide ulteriormente un territorio provinciale che è già di per sé morfologicamente frammentato questo a mio avviso la colpa è non solo della gestione della conferenza di Arevasta ma in particolar modo della regione che anche oggi mi è dispiaciuto perché si parla dell'applicazione dell'algoritmo dei risultati e non era presente l'assessore alla sanità nonché presidente della regione Marche quindi si discute di un tema importante dei cittadini e non è presente la regione tra l'altro erano presenti i tecnici dalla regione ma poi non hanno neanche preso parola per via delle discussioni quindi questa è stata un po' la giornata strana della conferenza dei servizi a noi non ci convince l'ipotesi dell'ospedale unico l'abbiamo detto più volte riteniamo che la soluzione migliore è quella di un presidio sanitario suddiviso su più articolato su più sedi quindi Fano Pesaro Pergola Sasso Corvaro Fossombrone Cagli Urbino quindi questa è la nostra idea l'ottimizzazione degli ospedali dell'entroterra anche il nostro comune come diceva prima il sindaco di Cartoceto noi non è che diciamo no ad un ospedale di eccellenza però deve essere fatto uno studio ci deve essere un'analisi costi benefici deve essere presentata in conferenza di area vasta ci deve essere uno studio di fattibilità su cui il sindaco si può esprimere e questo finora non è stato fatto quindi da questo punto di vista non ci sono le condizioni per per sostenerlo quindi questa è l'idea del nostro comune del comune di Mondolfo siamo contenti di partecipare a questo gruppo un gruppo che è propositivo che al contrario di altri comunque dà delle idee delle indicazioni delle linee guida ben chiare alla conferenza di area vasta grazie sono abituato a fare molto in fretta allora sindaco di Montecopiolo penso che tutti abbiate assistito ultimamente alle polemiche credo che questa conferenza spieghi in parte per quale motivo sette comuni se ne siano andati e altri due se ne vogliono andare dalle marche perché francamente oggi venire all'area vasta e parlare di qualche cosa che non è ancora esistente che forse si verrà realizzato tra qualche non dico decenni ma può anche darsi e non parlare invece del momento in cui i nostri concittadini soprattutto l'area interna vengono assolutamente depauperati di una serie di servizi indispensabili come salvavita allora a me sentirmi dire che dovevo dare un parere sui metodi per scegliere il sito che se mi va bene è a 79 km oppure 80 detto papale papale non me ne può fregare di meno perché come detto prima se il mio concittadino non è morto subito sicuramente in un tragitto di quelle dimensioni non ce la può fare ora che io debba scegliere dove l'algoritmo non sono un professore di matematica però ho lavorato per una ventina d'anni in una società di informatica allora le app tutte queste cose voglio dire funzionano diciamo in funzione di quello che gli si fa e gli si vuole far dire allora chi a me questa mattina mi si dica da 1 a 10 devi fare devi proporre qualche cosa mi sembra veramente platealmente una stupidità e soprattutto quello di prendere per il sedere 59 sindaci perché non è questo il modo di decidere sono sei anni che proponiamo la regione Marche non c'era questo presidente speravamo e speravo che il metodo di lavoro cambiasse e che abbiamo proposto forme alternative che abbiamo criticato questa scelta di organizzazione sanitaria regionale mai ascoltati questa mattina improvvisamente ho decidete allora non si sono messi d'accordo diciamolo c'è la tutta non si sono messi d'accordo il sindaco di Fano il sindaco di Pesaro il presidente della regione mi dà l'idea che aveva il cerino che cominciava a scottargli le dita quindi ce lo dobbiamo prendere noi no noi stiamo proponendo qualche cosa di diverso vogliamo ragionare per qualche cosa di diverso se qualcuno vuol decidere oggi di qualche cosa che non è indispensabile ma oggi è indispensabile curare fare prevenzione curare i nostri concittadini beh allora ci sto come hanno detto i miei colleghi e io ho sostenuto e sostengo in pieno la proposta che viene fatta di un sistema policentrico in modo che allora in Romagna funziona è più piccola ma funziona noi che abbiamo più distanze non possiamo permettersi di avere solo un ospedale 80 chilometri non è possibile quindi per quanto mi riguarda io sostengo appieno quello che è stato proposto oggi e l'ho fatto per sei anni quindi fino a quando rimarrò nelle Marche continuerò a battermi perché questo venga fatto grazie grazie al sindaco di Piaggio per l'ormai consueto ospitalità e ai colleghi che mi hanno preceduto la nostra posizione è stata già ampliamente presentata la settimana scorsa e oggi ribadita con forza dal sindaco di Pergola io volevo tornare un attimo sulla conferenza di stamattina secondo me è estremamente avvilente e mortificante per la nostra figura di sindaci chiamati come diceva poco fa il sindaco di Montecopiolo a dare dei pareri su come impostare un'app e dando per scontato che noi vada bene l'ospedale unico abbiamo detto che siamo contrari come diciamo prima non a prescindere ma perché l'ospedale unico non può essere l'assoluzione di tutti i mali della sanità la sanità non funziona quindi prima risolviamo i problemi concreti della gente della sanità locale poi eventualmente facciamo di questo presunto ospedale unico nuovo provinciale chiamiamolo come vogliamo il fiore all'occhiello di questo piano ma non può essere l'architrave della sanità locale la sanità locale non funziona basta fare un giro oggi sentivo pareri anche di altre persone passate lì quasi per caso chi non trova il medico che deve girare la provincia per un posto letto sentivo prima Urbino un signore di Carpegna gli hanno detto se vuoi il posto letto lo trovi a Pergola praticamente a due ore di macchina quindi questa è la sanità attuale provinciale per cui non possiamo cominciare dalla fine per risolvere i problemi ma cominciamo dal basso per cui ecco mi sembrava giusto lasciare più spazio ai colleghi che si sono aggiunti ultimamente mi fa piacere ci tacciavano mi tacciavano in particolare di essermi isolato politicamente per questa scelta di combattere l'ospedale unico mi pare di non essere solo anzi sono in ottima compagnia visto poi che i comuni che si sono aggregati oggi sono estremamente importanti non che gli altri non lo siano ma anche come popolazione sono pesanti e niente quindi non faccio altro che riconfermare quello che hanno appena detto i miei colleghi e ripeto noi siamo disponibili a un confronto però ci venga chiesto cosa pensiamo non credo sia giusto che la regione che ne ha il diritto legale ma non morale secondo me di ignorare il parere dei sindaci dei sindaci che rappresentano i propri concittadini grazie buonasera a tutti e grazie Piagge e Maurizio Cionna per l'ospitalità e grazie a tutti gli altri quello che è andato in onda oggi questa mattina è quanto assolutamente ci aspettavamo una decisione imposta da non si sa chi non si sa per quali motivi e con un esito che era scontato fino a un certo punto nel senso che fa piacere vedere come da cinque amministrazioni comunali durante la conferenza stampa di qualche mese fa eravamo in cinque siamo cresciuti e abbiamo fatto capire perché proprio perché la nostra proposta è propositiva ed è costruttiva che un'alternativa al piano sanitario regionale è possibile farla è possibile costruirla ed è possibile proporla oggi siamo dieci amministrazioni comunali alcune oltretutto di rilevanza territoriale e demografica e al momento della votazione se così possiamo chiamarla molti sindaci si sono alzati in piedi e non hanno partecipato non hanno partecipato perché non si può chiedere a un amministratore pubblico a un sindaco che rappresenta la salute o almeno dovrebbe la salute di tutti i cittadini del proprio comune decidere delle condizioni dei parametri di un'app o di un algoritmo così chiamato in cui oggi sembrava veramente di sentire tutti esperti informatici no? tutti sapevano cos'è un algoritmo come funziona quali sono i parametri in realtà non ne sapeva niente nessuno o forse solo qualcuno e questa è la mortificazione davvero del ruolo cui siamo stati chiamati dalle nostre popolazioni fare delle scelte e offidarci alla fine è stato detto beh non c'è il numero legale è venuto meno perché fortunatamente molti sindaci hanno fatto sì quella una scelta coscienziosa di abbandonare quell'assise ed è questo il messaggio che deve passare non il contrario hanno fatto questa scelta quindi non hanno voluto ovviamente dare in mano a un software una scelta così importante noi quello che ribadiamo è la base programmatica la piattaforma programmatica su cui è possibile realizzare un altro sistema sanitario poi un'app che oltretutto anche nei termini come c'è stata poi in maniera un po' soffusa spiegata parla chiaramente di un altro fatto di quello che si è andato a dire tante volte ovvero della chiusura possiamo dire dell'ospedale di Pergola perché se viene inserito fra i parametri che anche Pergola ha un gap di distanza da colmare vuol dire che a Pergola un pronto soccorso una struttura per Acuti è destinata a chiudere io dico la stessa cosa abbiamo detto purtroppo a medio termine questo piano prevede anche per una città come Urbino è stato detto da qualche sindaco in precedenza non è che c'è una contrarietà ad una struttura nuova di Pesero o di Fano o di Pesero e Fano ma deve essere soltanto in aggiunta a quello che oggi c'è questo è il punto chiave il punto cardine che tutti quanti dobbiamo ben ricordarci oltretutto i problemi come è stato detto tante volte ma anche questo sembra che sia una cosa talmente ovvia che non non si riesce a comprendere bene perché perché oggi tu parli di dove mettere un ospedale unico quando gli effetti dell'attuale riforma del sistema sanitario regionale è già in atto non è una cosa nascosta il fatto che già oggi ci sono state delle decurtazioni o ci saranno breve sia a Fossombrone che a Cagli e Sasso Corvario che oramai purtroppo è una struttura quasi completamente chiusa questa è la realtà quindi due livelli di ragionamento che non vanno in parallelo ovvero tu mi dici voglio fare farò faremo con chissà quali tempi e risorse una nuova struttura ma nel contempo mi inizi a tagliare sulle strutture territoriali da oggi questa è la realtà i documenti parlano in maniera molto chiara e ribadisco ancora bisogna credere a quello che sono le carte e i documenti su cui è scritto tutto molto bene e anche posso dire posso fare anche questa provocazione anche al presidente Luca Ceriscioli perché perché Luca Ceriscioli a differenza di altri forse quello che ha in testa ce l'ha ben chiaro e ad interrogazione chiara e distinta ti dice anche quello che ha in testa e in maniera e l'ha detto diverse volte quello che ha in testa di fare però ha l'onestà di dichiararlo tanti altri purtroppo invece cercano sempre di mettere una pezza riparatrice nel breve termine nell'immediato per cercare di accontentare alcune realtà locali poi non pensando che certi territori in un futuro molto breve molto ravvicinato si ritroveranno a discutere di problemi veramente importanti è chiaro quello che è successo oggi uno spettacolo indecoroso se i cittadini che ci hanno votato erano fossero stati presenti a quell'assemblea non lo so come ne saremo usciti perché si è parlato del quasi del nulla per quasi cinque ore non arrivando a nessuna ipotesi a nessuna conclusione finale perché era sbagliato il quesito iniziale era sbagliato il localizzare l'ospedale unico senza parlare prima della riforma sanitaria noi facciamo questa proposta il fronte sembra sempre allargarci e allargarsi sempre di più di questo va dato atto a tutti noi che ci impegniamo e ci mettiamo la faccia su questi problemi perché poi dovremo renderne conto ai nostri cittadini e mi auguro che si possa discutere del sistema sanitario e non della localizzazione soprattutto tramite un algoritmo salve a tutti Ferdinando Marchetti sindaco di Montefelcino ovviamente anch'io ringrazio tutti i convenuti anche il sindaco di Piaggia che ci ospita la preoccupazione mia credo anche condivido dagli altri è proprio quello che è stato detto diciamo da tutti gli interventi io vorrei sottolineare anche una cosa rivolgendomi anche ai turo per et o alle compagnie di turismo eccetera che sollecitano la presenza di turisti sul nostro territorio bene sulla loro brochure al momento in cui evidenziano o se me lo metteranno e dovranno metterlo sanità locale dovrebbero sicuramente mettere in retto evidenziare che chi si addentra nella provincia di Pesurbino rischia grosso perché troverà un punto intervento e troverà un ospedale a circa 70 km come diceva Pocanzi Montecopiolo quindi vicino Carpegna Carpegna esatto che stamattina diceva che ci sono 80.000 presenze all'anno quindi abbiamo una presenza di turismo e di turisti quindi bisogna pensare anche a loro non soltanto alla nostra collettività perché già siamo informati di quello che sta succedendo cosa che invece il turista non sa e quindi ecco è un salvavita che dovrebbero premonirsi non solo della carta sanitaria verde ma anche di altri amuleti io come ripeto sono d'accordissimo con i miei colleghi della di una struttura unica potrebbe essere veramente deleteria per l'entroterra deleteria per i piccoli per le piccole comunità come nel caso non è che voglio dire Montefelcino Montefelcino è una posizione abbastanza diciamo così vicino a Fossombrone vicino Fano vicino Urbino diciamo è una via di mezzo potrebbe a limite dire è un problema che mi interessa marginalmente invece non è vero i nostri problemi sono gravi perché poi per raggiungere la parte interna del comune di Montefelcino abbiamo una viabilità completamente veramente da terzo mondo e quindi ecco questo ulteriormente questo probabilmente l'app dovrebbe precisare anche questo cioè la provincia avrebbe dovuto dire anche il grado di strade quale numero classificare le strade cioè il collegamento Ponte degli Alberi Gallo dare un punteggio da 1 a 10 sicuramente da 0 a 5 quindi ecco bisognerebbe valutare anche tutte queste altre diciamo così altre situazioni che potrebbero far diciamo pendere lago verso una puntuale sanità proprio sul territorio ecco io non mi dilungo di più ecco voglio fare questa precisazione che concordo esattamente con quanto è stato detto e è stato letto quindi grazie soltanto per integrare con un aspetto non secondario che non ho prima sottolineato e cioè quando anche domattina potessimo avere su questo tavolo a disposizione un progetto esecutivo della nuova struttura con tanto di risorse a disposizione e questi sono due punti interrogativi di non poco conto ma quando anche avessimo entrambe le cose a disposizione sin da domani tutti sappiamo che realizzare un ospedale di quella portata significa ovviamente impiegare tanto tempo ora forse i sindaci che conoscono meglio anche quelli che sono i tempi della pubblica amministrazione sanno bene che per realizzare una struttura di questa portata se tutto fila liscio significa almeno impiegare dieci anni alla luce di questa considerazione è ancora più importante ribadire quella che è la rilevanza del piano socio sanitario cioè di quel contenuto di cui parlavo prima perché una domanda che vorrei rivolgere a chi ci ascolta in modo particolare ai cittadini è qualora domattina iniziassimo la realizzazione dell'ospedale unico io voglio sapere in questi prossimi dieci anni come funzionerà il nostro sistema socio sanitario della provincia di Peso Urbino questa è una domanda fondamentale che ci dobbiamo porre ed è uno dei motivi cardine per cui questo gruppo di 30 sindaci decide e ha deciso questa mattina in sede di conferenza di Arevasta di anteporre la discussione del piano socio sanitario e cioè dei servizi delle prestazioni mediche e dell'organizzazione ospedaliera rispetto a quello che è il semplice mero contenitore cioè la scatola che come disse il presidente Luca Ceriscioli nel consiglio monotematico a Fano avrà sicuramente una miglior logistica una miglior organizzazione una performante efficienza energetica ecco di tutti questi parametri io credo che i sindaci i cittadini sicuramente si interessano ma la prima cosa che hanno a cuore è la qualità e l'eccellenza delle prestazioni medico-sanitarie per cui un altro punto interrogativo fondamentale è esattamente quello che ho detto adesso cioè che succede da domattina per i prossimi dieci anni ammesso e non concesso che noi domani abbiamo risorse e progetto esecutivo per poter realizzare il nuovo ospedale credo che non sia una considerazione da far passare in secondo ordine rispetto insomma alla generalità dell'argomento concludiamo la conferenza stampa mi sembra che dagli accenti di tutti i colleghi sia apparso evidente il disagio dell'impossibilità di proporre e di discutere ma di dover recepire una imposizione quali sindaci massime autorità sanitarie locali non permettiamo essendo stati eletti dai nostri concittadini di farci imporre nulla da nessuno noi dialoghiamo e allora con la bozza di progetto di nuovo piano sanitario che abbiamo sottoscritto abbiamo firmato in precedenza che è completamente alternativa a quella descritta dall'attuale piano sanitario regionale noi abbiamo fatto una proposta concreta per la tutela della salute di tutti i cittadini non lasciando indietro nessun cittadino e nessun territorio quindi ora è chiaro aspettiamo risposte risposte concrete e le attendiamo subito perché la vita dei cittadini dei nostri ospedali depotenziati dei nostri territori senza assistenza ospedaliera non può aspettare ed è emerso anche chiaro se qualcuno volesse fare strumentalizzazioni o speculazioni che nessuno dice no a nuove strutture ma nuove strutture in aggiunta mi sembra che sia stato molto chiaro il collega Laurentino in aggiunta alle strutture esistenti che fanno da filtro verso una struttura che debba essere prevista nel piano di specialità di nuovo piano sanitario regionale come una struttura con delle specializzazioni o con delle eccellenze il che significa che deve raccogliere tutto ciò che dal filtro arriva e il filtro sono tutti gli altri ospedali attualmente assistenti io dico compreso Pesaro Fano Urbino Pergola Fossombrone Cagli e Sasso Corvaro questo è un piano sanitario che non lascia indietro nessuno ed è tra l'altro lo stesso piano sanitario regionale realizzato nella vicina provincia di Ancona se qualcuno ci verrà a dire che quello che ci propongono la provincia di Pesaro Urbino è migliore di quello che attualmente viene nella provincia di Ancona siamo disposti al cambio cioè prima sperimentino nella provincia di Ancona e poi se ciò funziona lo applicheremo anche nella provincia di Pesaro ma non capisco perché debba essere sempre la provincia di Pesaro a fare a meno dei posti letto e degli ospedali non ci stiamo e quindi presentiamo una proposta alternativa concreta sulla quale aspettiamo immediatamente una risposta sia in conferenza dei sindaci io dico dal presidente Gambini che oggi ha diretto non in maniera eccellente la conferenza dei sindaci ma come un ulteriore giocatore su una proposta quando dovrebbe garantire tutti i sindaci sia dalla regione Marche che deve ascoltare i sindaci del suo territorio quella è la nostra regione noi siamo i sindaci di questa regione per evitare anche che altri comuni se ne vadano dalla provincia di Pesaro Urbino e dalle Marche quindi siamo una cerniera che cerca di tenere unito tutto il territorio altrimenti questa provincia nelle Marche non esiste più grazie lascio la parola padrone di casa sì credo che ci possiamo avviare la conclusione perché mi sembra che ognuno ha fatto il proprio intervento in maniera chiara precisa della stessa linea no? perché poi le problematiche sono queste ne siamo convinti io devo dire Enrico che la domanda che tu hai fatto fa paura da qui ai prossimi dieci anni cosa succede però ce la dobbiamo fare perché credo che sia questo il tema su cui ragionare perché poi di fatto è vero sì all'ospedale unico magari per qualcuno ma poi che succede perché nel frattempo succede tutto il resto che viene smantellato tutto questo è drammatico spero che veramente qualcuno incominci a prendere veramente visione consapevolezza perché veramente questa mattina abbiamo visto la veramente la non dico la disperazione ma veramente la sfiducia totale di sindaci non parlo di cittadini figuriamoci cittadini di sindaci appunto dell'entroterra che non hanno non vedono via d'uscita non c'è poco da fare in questo modo hanno le problematiche e si rendono conto no? tanto avete letto anche l'altro giorno quell'articolo dove avevano prenotato la visita a Sassu Corraro per settembre quando poi questo dice ma non mi chiami non mi chiami non mi chiami si guarda che l'ospedale è chiuso già da un anno e quello dice devo ricominciare da capo ecco succede vabbè saranno casi isolati ma anche questo succede però io credo una cosa invece molto importante è che noi stiamo in questi due mesi scrivendo una pagina di politica territoriale non partitica che vale tanto perché se oggi cominciamo come stiamo facendo di ragionare in maniera trasversale e in maniera orientata ai bisogni dei cittadini probabilmente forse quello ci mette d'accordo tutti se invece cominciamo a ragionare perché ognuno coltiva il proprio orticello non andremo da nessuna parte noi stiamo tentando di fare questo percorso credo che ci stiamo riuscendo perché abbiamo dei numeri oggi di tutto rispetto e quindi crediamo che sia questa la strada giusta ci crediamo e aspettiamo effettivamente qualcuno che ci dica qualcosa noi siamo disponibili ad ascoltare tutti senza nessun problema grazie e buona serata grazie